I gruppi che si occupano della gestione del servizio idrico hanno bisogno di molta energia. L'acqua notoriamente non va in salita. L'aumento dei prezzi energetici, partito lo scorso agosto e accelerato dalla crisi ucraina, ha peggiorato le cose. Secondo i dati di Utilitalia, l'aumento è del 70% in un anno e il costo dell'energia a carico delle imprese è passato da 700 milioni a 1,2 miliardi. Come pensate di gestire l'aumento dei costi? L'aumento dei costi con il metodo tarifario che ci ha dato l'autorità viene riconosciuto e quindi succederà che noi ci troveremo con dei bilanci in disavanzo. L'autorità ci riconoscerà questi costi fra due anni e quindi avremo dei margini economici che non sono immediati ma saranno fra due anni. Ma poi questi costi andranno a finire sulle bollette dei cittadini? Certamente, perché l'energia è uno di quei costi che si riferisce a un'attività che viene completamente riconosciuta. Quindi il costo energetico è completamente riconosciuto e chiaramente viene riportato in bolletta. Spalmato su varie bollette? Dipende dall'entità. Se si sta all'interno del limite massimo, che oggi è dell'8,5%, a questo punto si può caricare su una bolletta. Se non ci sta in quel limite massimo, si carica su più anni.